ecco questa l'appendo qui questo qua questa la metto qui queste le appendo qui e voilà abbiamo finito oh wow grazie dell'aiuto ragazze la mia camera è stupenda si aspira proprio l'aria natalizia ma non c'è di che e si è proprio bella io ho già decorato a casa mia io no lo faccio domani io l'ho fatto stamattina e poi comunque adesso si è fatto tardi io devo tornare a casa anch'io e anch'io oh certo vi accompagno alla porta a domani grazie dell'aiuto ciao 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 è stata una serata super divertente le sue pizze arrivano fra poco ok oh Miriam ciao Jack basta con questo comportamento Miriam non risolvi niente ciao Jack ciao mi vuoi parlare scusami se insomma ti ho trattato male e così eh sì lo so che non potremmo mai tornare insieme però possiamo rimanere amici che ne dici oh per me va bene ti va un po' di pizza sono appena tornato dagli allenamenti e ne stavo prendendo un po' certo non dico mai di no alla pizza mi fa un po' strano vedere la strada dello street food da so cioè deserta e vabbè del resto è sera e fa freddo grazie per questa pizza e te grazie dell'amicizia ah di nulla te la cioè insomma va bene comunque adesso si è fatto tardi e mia mamma non sa che mi sono fermata qui devo andare a casa eh sì anch'io allora ci vediamo domani a scuola a domani ciao ciao il giorno dopo a scuola? ciao Jack oh ciao Miriam ti presento i miei amici? certo e insomma era tutto nero era super carino e mio fratello l'ha preso e e e Susan che ne pensi dell'azione di mio fratello? Susan? ci stai ascoltando? Susan! oh eh sì sì cosa? che c'è? hai ascoltato cosa ho detto? eh sì 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 sono stata distretta perché ho visto Miriam che parla con Jack che? non sto sognando guardate oh ma siete così simpatici adesso però devo andare a mettere la roba nell'armadietto ok ci vediamo dopo in classe ciao buongiorno ragazze Lauren? qual è l'ultima? che sono quelle facce? ma ma tu stai bene o dobbiamo chiamare il 118? eh certo che sto bene perché ti abbiamo appena visto parlare con Jack che ti è successo? ah è solo quello e vabbè allora vi racconto e andata così so che non potremmo mai tornare insieme ma l'amicizia è già qualcosa sì sei stata una persona molto generosa già anche se vi siete lasciati non vuol dire che non potete rimanere amici drinninn ink Technia adesso andiamo in classe sì prima Margherita e le sue amiche ah e inizia un nuovo orribile noiosissimo patetico giorno in questa orribile scuola già non vedo l'ora di andarmene ah siamo stati per solo pochi giorni ma sembrano durati in eterno non è vero Margherita? Eh, oh, sì, ma mi stavo chiedendo, che ne dite di fare qualcosa oggi pomeriggio? Eh, qualcosa? Certo, possiamo fare shopping Ma sempre shopping, cioè non possiamo fare qualcos'altro, facciamo sempre quello Qualcos'altro al di fuori dello shopping Ma tutto bene, Ania? Hai battuto la testa? Cosa? Perché? Ma stai dicendo che non vuoi fare shopping? No, non ho detto quello, è solo che non possiamo fare qualcos'altro No, ma vabbè, ma poi che c'è, ci siamo già viste questa settimana Ma perché dobbiamo vederci solo una volta a settimana? Ma stai scialla, dai Andiamo in classe Perché non vogliono fare altro? Ci vediamo così poco e se le mie vecchie amiche avessero ragione nell'intervallo ascolterò e voglio vedere cosa fanno oggi pomeriggio così le segue insomma devo capire chi sono le mie vere amiche continua stelline l'episodio finisce qui che ne pensate che Miriam e Jack hanno deciso di rimanere amici secondo voi un'amicizia può esserci tra un maschio e una femmina e ex e Margherita secondo voi capirà chi sono le sue vere amiche secondo me delle vere amiche si dovrebbero vedere così poco e fare sempre la stessa cosa diteci tutto nei commenti ma dopo esservi iscritti aver lasciato like e aver condiviso il video ci vediamo alla prossima ciao un bacio e un abbraccio un inchino o un batte i cinque ciao